Alla fine la liberalizzazione toccherà solo le edicole a incappare nel provvedimento del governo sarà la categoria degli edicolanti che per protesta ha programmato tre giorni di serrata il 27, 28 e 29 di dicembre alla quale aderiranno anche le 341 edicole ricadende nel territorio di Catania e provincia ma dalle ultime notizie pochi aderiranno. A manifestare rabbia mista e preoccupazione il presidente provinciale dello SNAG il sindacato aderente alla Confcommercio Salvolo Bianco che vede nella liberalizzazione della rete di vendita dei giornali una vera minaccia all'accesso dell'informazione. Ancora non abbiamo notizie diciamo ufficiali da nostre sindacate, da nostre cose che il percentuale di aderenza c'è a questo sciopero quindi ancora non sappiamo se aderire oppure no. Quindi però oggi dobbiamo decidere cosa fare, se chiudere oppure no, anche se la tendenza è quella di rimanere aperte, molte hanno intenzione di stare aperte. La liberalizzazione ovviamente penalizza le edicole perché voi avete dei vincoli imposti dagli editori sui prezzi, anche sulla quantità eccetera. Ma questa protesta si farà oppure no? Ma io parlando personalmente riguardo questa protesta non l'accetto diciamo anche guardando il periodo di crisi che c'è. E allora posso dire solamente che io personalmente lavoro, non so diciamo più, anche perché i nostri sindacati non si è fatti vedere nessuno, perché io ho consentito, se era una cosa generale, io ero disposto a farla anch'io. Io non aderisco diciamo. Anche perché a questo punto con questa liberalizzazione ha pochi passi dalle proprie edicole, chiunque può vendere giornali. Qual è il suo pensiero? Ma io non lo so, non lo ritengo giusto. Solamente questo posso dire che allora potessi finire magari io i sigaretti diciamo, giusto o no? Il monopolio di Stato. Ma così vogliono, vediamo come finisce. Lo snag porta quindi l'attenzione dell'opinione pubblica, le sue preoccupazioni che riguardano il diritto di tutti i cittadini a una informazione libera e pluralista e sottolinea come la liberalizzazione del settore evidenzi una conoscenza limitata dei reali problemi del comparto editoriale.